Capitolo 32. Grover mangia i miei avanzi. La parte peggiore di tutto questo? Le semi-bag, ovvero i sacchetti di avanzi per i semi-dei, esistevano davvero. Naomi mi diede un sacchetto termico bianco con la scritta a lettere rosse semi-bag, sopra un disegno stilizzato di bambini sorridenti con la lingua di fuori in attesa delle loro gustose delizie. Non so cosa trovai più offensivo, il fatto che gli dei trattassero i propri figli come animali domestici o il fatto che nemmeno una volta Poseidone mi avesse portato degli avanzi. Naomi mi riempì di dolci di eccelsa qualità, pur senza includere la panna rappresa. In qualche modo riuscì a riattraversare il ponte dell'Olimpo senza essere avvicinato da divinità minori o da dria di accanite fan di Annabeth che chiedevano il suo autografo. Mentre prendevo l'ascensore per tornare nel mondo mortale, sentii ancora le note di I Got You Babe. Numi onnipotenti, ma quanto durava quella canzone? Chissà, forse gli dei la mettevano a ripetizione per torturare i visitatori. Mi resi conto che tremavo di paura, di paura a posteriori però. Tutta l'adrenalina abbandonò il mio corpo. Vedevo ancora gli occhi di Atena che mi trafiggevano, ben peggiori dello sguardo di un leone. A differenza di Lucius, la dea della saggezza, non poteva essere rabbonita con una grattatina dietro l'orecchio, o almeno non sarei stato io a provarci. Mi tolsi il berretto di Annabeth, cosa che un po' mi aiutò. Il prurito cessò all'istante. Mi aspettavo di avere la pelle ricoperta di ponfi rossi, ma le braccia non erano diverse da prima. Quando raggiunsi l'atrio mi ero quasi calmato. Le porte si aprirono. Trassi un respiro profondo e uscii dall'ascensore, facendo del mio meglio per comportarmi con disinvoltura. Lasciai cadere sul banco della reception il badge che avevo rubato. Non c'era nessuna traccia di Grover, anche se una delle guardie mortali stava canticchiando Get Lucky. La guardia alla reception non tentò di fermarmi, ma sono sicuro che strizzò gli occhi quando vide la mia semi-bag. Una volta uscito sulla quinta Avenue individuai Grover in fondo all'isolato. Stava agitando lo scintillante hula-hop nella mia direzione. Quelli della sicurezza mi hanno lasciato andare con un ammonimento, disse trotterellando verso di me. E tu hai... Oh, ma quella è una semi-bag, grazie. Grover si fiondò sugli avanzi come un cavallo con un sacco di biada. E lo dico in senso assolutamente positivo, come un complimento. Mmm, fece. Sai cosa manca a questi scons? La panna rappresa? Tirai a indovinare. Il satiro assunse un'espressione sognante. Stavo per dire la marmellata di fragole, ma sì, la panna rappresa. In ogni caso, raccontami cos'è successo. Gli fece una sintesi della mia favolosa esperienza al branch. Il ama a Creta? Grover corrugò alla fronte. Sicuro che non fossero vigugne o guanacchi? Sai, non ho avuto occasione di chiederlo mentre mi nascondevo nel carrello dei dolci. Che cosa banale. Ma hai incontrato Lucius il leone? So che racconta barzellette esilaranti. Grover doveva aver notato l'espressione vacua sul mio viso. Per le quali ovviamente non hai avuto tempo. Pare che tutto sia andato bene, però. Sì, certo. Almeno finché Atena non mi denuncerà alla polizia di frontiera dell'Olimpo. O Zeus non scoprirà che mi sono intrufolato nel suo branch. Ho deciso di non parlare con nessuno al campo di questo episodio. Il pizzetto di Grover vibrò. Temetti di averlo offeso in qualche modo. Poi il mio amico tirò su con il naso e mi resi conto che stava per piangere. Sarò sincero, Percy. Il momento in cui ho avuto più paura è stato probabilmente nella grotta dei ciclopi nel mare dei mostri, quando ero tutto solo. Si asciugò il naso e Lula Hop scintillò allegramente, perché gli Lula Hop non hanno la benché minima sensibilità. Ma oggi, quando ti ho visto lottare contro Gary, quel momento lo segue a ruota. Ho davvero pensato che ti avrei perso. Fu come se mi avessero riempito il cuore di una bevanda olimpica particolarmente pesante. Oh, G-Man. Ce la siamo cavata bene. Ce la caviamo sempre. Grover tirò di nuovo su con il naso. Lo so, ma ogni volta ho la sensazione che stiamo sfidando la sorte. Come se prima o poi la nostra fortuna debba finire. E se ti avessi perso? Ehi, sto bene, lo rassicurai. E poi ti sei ritrovato in situazioni molto più spaventose di oggi. Voglio dire, il covo di Medusa, gli inferi. No, ribatté. Non c'è niente di più spaventoso che starsene a guardare il tuo amico che lotta e non essere in grado di aiutarlo. Gli misi una mano sulla spalla. Ma tu mi hai aiutato. Sai come ho fatto a battere Gary? Gli raccontai il sogno a occhi aperti che mi aveva fatto superare l'incontro di wrestling. Di Annabeth, me e lui che sonnecchiavamo sotto il sole in una casetta e in riva al mare. Grover ascoltò con attenzione, come se desiderasse nutrirsi di quella storia, non meno che delle prelibatezze del pranzo al sacco. Avevo i peli bianchi nelle orecchie? Domandò. Esatto. Sì, ci sta. E per pranzo cosa c'era? Ci pensai. Forse le enciladas. Grover sospirò soddisfatto. Ok, va bene. Alle enciladas posso credere. Mi diede un abbraccio che mi ricordò quanto mi facessero male le costole, ma sinceramente non mi importava. Forse avevamo un'aria strana. Due ragazzi sulla quinta avenue che si abbracciavano con un hula-hop in mezzo. Non mi importava neanche di questo. Ti sto impedendo di andare a scuola, disse Grover liberandomi dal suo abbraccio d'acciaio da satiro. Non hai già perso tipo due lezioni? Oh, giusto. La scuola. Forse prima dovrei trovare Annabeth, suggerì speranzoso. Raccontarle cos'è successo. Restituirle il berretto. Posso farlo io, replicò Grover. Tu fila in classe. Questo è il vantaggio di avere un amico che non va a scuola. Può fare le cose per te mentre tu sei bloccato a lezione. Lo svantaggio è che hai una scusa in meno per saltare quelle lezioni. Risistemai il berretto di Annabeth alla misura giusta e lo porsi a Grover. Poi gli diedi un altro abbraccio. Grazie per tutto, G-Man. Non ce l'avrei fatta senza di te. Oh, arrossì fino alla base delle corna. Tu prendi dei bei voti, altrimenti... Beh, sono sicuro che te la caverai alla grande. Su questa nota allegra ci dirigemmo in direzioni diverse. Lui in centro verso la Sodnik, io verso la metropolitana per il Queens. Tentai di non soffermarmi sul fatto che per andare a scuola dovevo prendere la linea F, la stessa iniziale di fallimento di fare fiasco. Mi sembrò davvero di cattivo auspicio. Eppure era strano percorrere di nuovo un tragitto mortale dopo il viaggio sul Monte Olimpo. Nel sedile accanto a me, un tizio al telefono si lamentava del valore delle azioni della sua società. La signora dall'altra parte del corridoio tirò fuori delle rape dalle buste della spesa in cui stava rovistando e le guardò male. Nel frattempo, sull'Olimpo, Zeus probabilmente non aveva ancora concluso la storia sui lama. Preferivo stare con il tizio delle azioni e la signora delle rape. Erano più divertenti. Dopo essere riemerso nel Queens e avere camminato per quasi un chilometro, avevo appena smesso di tremare per la mia impresa mattutina quando cominciai a tremare al pensiero del ritardo ingiustificato che avrei dovuto spiegare. L'alternative high school era proprio dove l'avevo lasciata, in un isolato alberato sulla 37esima Avenue, tra un concessionario di auto usate e un grossista di materiali da costruzione di nome, non scherzo, e Faistos. Non ebbi il coraggio di visitare il negozio, ma mi domandai se vendessero pezzi di ricambio per draghi di bronzo. L'edificio in sé sembrava una scuola elementare new yorkese ingannevolmente normale, una struttura di mattoni rossi a due piani con finestre bordate di bianco e un'entrata principale azzurro brillante. Solo quando confrontavi l'insegna Alternative High School con il cortile, che aveva ancora altalene e dipinti dei personaggi Disney sull'asfalto, cominciavi a provare un senso di alienazione. Entrai in segreteria, pronto a raccontare storie assurde di ogni tipo. Ero indeciso tra il cane mi ha mangiato le scarpe e non ha suonato la sveglia. Visto lo stato mentale in cui mi trovavo, probabilmente me ne sarei saltato fuori con salve il mio cane non ha suonato e ho mangiato le scarpe della sveglia. Prima che potessi dire qualcosa, la segretaria alzò gli occhi da una telefonata. Era quasi raggiante di gioia. Oh Percy Jackson, sto parlando con tuo padre proprio adesso. mi ha spiegato che saresti arrivato in ritardo. Sbattei le palpebre. Davvero? Mise una mano sulla cornetta. Che uomo delizioso! Tieni, digli che sei arrivato sano e salvo mentre io ti preparo il permesso per la terza ora. Abbiamo già riprogrammato il compito della prima ora, non preoccuparti. Mi porse il telefono e tornò con passo leggero alla scrivania, canticchiando un motivetto allegro. fissai la cornetta. Paul aveva chiamato la scuola? Non aveva senso. Non sapeva neppure che sarei arrivato tardi e stava attento a non farsi mai passare per mio padre. Ma chi altri? Certo non è. Pronto? Congratulazioni, mi rispose Poseidone. Ottimo lavoro con il calice. Mi appoggiai al bancone per non cadere. Sentire il dio del mare a un telefono fisso mortale era oltremodo strano. Di solito udivo la sua voce sott'acqua o riecheggiare nella sala del consiglio sul monte Olimpo. Al telefono sembrava Poseidone quanto io sembro me stesso quando ascolto la mia voce registrata. Cioè per niente. Hai chiamato la mia scuola? Domandai. Non volevo risultare scortese. Ero solo sbalordito. Come aveva fatto Poseidone a trovare il numero? Come faceva a sapere cosa dire? Come aveva fatto a imparare addirittura a usare un telefono? Me lo immaginai in una bolla d'aria seduto a Bordovasca al confine della piattaforma continentale, la linea telefonica collegata direttamente con il cavo transatlantico sottomarino. Non c'era da meravigliarsi che avesse una connessione tanto nitida. Era il minimo che potessi fare, replicò. Margaret è stata molto comprensiva. Margaret? Immaginai che fosse la segretaria. Grover aveva ragione. Le segretarie di una scuola conoscono davvero tutto e tutti. Non sapevo però come prendere il fatto che Poseidone la chiamasse già per nome. Grazie, papà, l'ultima parte la dissi a beneficio di Margaret, visto che mi stava sorridendo mentre compilava il permesso d'entrata. Probabilmente stava pensando a quanto fossi fortunato ad avere un padre così presente nella mia vita. Posso chiederti, mentre stringevo la cornetta abbassai la voce, e non prenderla male, ma perché aiutarmi adesso? Insomma, sono stato in situazioni ben peggiori prima d'ora. Non è una partecipazione eccessiva per un dio? La linea rimase in silenzio per tre secondi buoni. Non fosse stato per il lieve gorguglio dell'acqua in sottofondo, avrei pensato che Poseidone avesse riattaccato. Sai, a volte sono le onde più piccole che ti fanno perdere l'equilibrio, disse. Gli tsunami, tutti sanno quanto sono potenti. Le ondate di maremoto sono enormi e impressionanti, ma le piccole onde hanno una grande potenza. Dimostrano quello di cui l'oceano è capace, perfino quando nessuno ci fa caso. Margaret fece scivolare un permesso di entrata sul bancone. Sorrise come per dire, è tutto molto bello e tuo padre sembra fantastico, ma adesso ho bisogno di riavere il mio telefono. Ok, papà, dissi. Capisco. In realtà non avevo idea di cosa stesse parlando. Ti tengo sempre d'occhio, Percy, riprese lui. Per lo più da lontano, è vero. Ti ho visto salvare il mondo tante volte, sconfiggendo nemici che spaventerebbero la maggior parte degli immortali, ma solo oggi ho capito quanto tu sia davvero un eroe. Mi si formò un nodo in gola. Perché ho osato andare a un branch? Poseidone ridacchiò. No, quella è stata soltanto avventatezza. Non mi beccherai mai a uno dei branch di Zeus. Mi riferisco a quando hai accettato la sfida di Geras. Saresti potuto andare via. Lasciare Ganimede al proprio destino. Forse avresti perfino convinto Geras a scrivere una lettera di presentazione per te. Il modo in cui Poseidone disse esattamente quello che avevo pensato io prima di battermi con Geras. Mi domandai se riusciva a leggere i miei pensieri. O forse semplicemente mi capiva come capiva gli stati d'animo dell'oceano. Come il mare, anch'io ero parte di lui. Invece hai mantenuto la tua promessa, continuò. Hai rischiato la vita per un coppiere che conosci a malapena. Non per una lettera. Né perché il destino del mondo era in pericolo. Ma perché tu sei fatto così. Oggi hai creato una piccola onda e hai dimostrato quello di cui l'oceano è capace. Mi vennero le lacrime agli occhi. Se non fossi stato attento avrei scatenato un'alluvione di acqua salmastra proprio lì nell'ufficio. Percy Jackson? Dal tono di voce di Margaret intuì che stava per esaurire la pazienza. Devo andare, dissi a Poseidone. Ma ehi papà, grazie. E poi potresti prendere in considerazione l'idea di permettere al dio del fiume Ilisso di fare una lezione di yoga per balene nel tuo palazzo qualche volta? Secondo me ti piacerebbe molto. Porsi a Margaret il telefono, presi il permesso d'entrata e me ne andai. Lanciandomi un'occhiata alle spalle attraverso la finestra dell'ufficio la vidi che stava di nuovo parlando con mio padre e rideva per qualcosa che le aveva detto. Stavano flirtando? Decisi che non volevo saperlo. Quella mattina avevo già combattuto contro la vecchiaia. Ero sopravvissuto a un brancio di vino e avevo ricevuto una semi bag che lo dimostrava. Avevo salvato la reputazione di Ganimede e avevo anche messo una buona parola per Ilisso e le sue lezioni di yoga sottomarino per balene. Erano già abbastanza piccole onde per il momento. Mio padre aveva ragione. Se non stai attento, possono farti perdere l'equilibrio. Capitolo 33. Un'altra caramella in ricordo dei vecchi tempi. Ero già arrivato a metà corridoio quando la porta della counselor si aprì. «Eccoti qua!» esordì Eudora. «Entra, entra!» Ero troppo stupito per discutere. E poi qualche altro minuto di ritardo forse non avrebbe